Questo è il sistema definitivo per tenere al sicuro i tuoi dati, basta con i soliti hard disk esterni o peggio ancora quelle dannate chiavette usb a forma di porcellino utili soltanto a farti buttare soldi. Prendi spunto dai migliori ed impara ad utilizzare il sistema di backup che per affidabilità e sicurezza è ad oggi il pilastro fondamentale di alcune tra le più grandi aziende del pianeta, e sì, molto più in piccolo anche del sottoscritto. Windows, Mac OS, Android, Linux, iOS è davvero applicabile su qualsiasi piattaforma e peraltro in maniera davvero semplicissima, per cui cosa aspetti? Mettiti comodo e seguimi nei prossimi minuti dove ti insegnerò come prenderti veramente cura dei tuoi dati seguendo una procedura fatta di soli 5 step. Ti spiegherò cosa fare e come farlo, al meglio quali errori evitare e già che ci siamo, perché no? Ti parlerò anche dei migliori software di backup gratuiti disponibili per Windows, Mac OS e anche Linux. E resta con me fino alla fine, perché in coda al video ti parlerò anche di un audacissimo ed estremamente interessante progetto di cloud geodistribuito, 100% made in Italy. E giusto perché rischio di essere linciato dalla regia, prima di cominciare concedetemi come sempre un istante per ricordarvi di passarci a seguire su tutte le nostre pagine social ed iscrivervi al canale per supportarla attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. E iniziamo con una domanda per nulla scontata. Tu che mi stai guardando, sì, proprio tu, ce l'hai un backup? No, perché altrimenti parliamo di aria fritta. E se la risposta è negativa? Disonore, disonore su di te, disonore sulla tua famiglia, disonore sulla tua mucca. Ci siamo capiti, no? Vergognati e in ginocchio sui ceci vai a chiedere perdone al Santo Padre Guglielmo Cancelli. Scherzo a parte, se davvero non hai alcun backup dei tuoi dati sensibili, diciamo di quelli maggiormente importanti, dovresti davvero, davvero preoccuparti. Perché si sa, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E non puoi nemmeno immaginare quante siano le persone che hanno visto i propri dati perversi del tempo come lacrime nella pioggia. Ehi, non disperare perché c'è qui il vecchio doc giusto appunto per aiutarti, per cui passiamo direttamente a parlare del primo dei 5 step, ma che dico step, dei 5 pilastri fondamentali alla creazione di un backup come si deve. Fondamentale, prima di ogni altra cosa, organizzare e definire i file da sottoporre a backup. Lo so, sembra banale, ma non lo è per nulla. Se ora ti domandassi quanti e quali sono i file più importanti presenti nel tuo computer e dove si trovano, ovvero all'interno di quali cartelle, 9 su 10 sicuro come loro mi assumeresti l'espressione tipica di una vigogna delle ande. Vai tranquillo, non sei solo ed anzi è una tra le principali ragioni per cui solitamente a molti viene da rispondere che già che ci sei allora tanto vale fare un backup dell'intero computer e buonanotte. La qualcosa in realtà non è nemmeno così sbagliata, ma in realtà da un certo punto di vista è sconsigliato più che altro, in quanto così facendo si vanno a creare copie di backup anche di file totalmente inutili come per esempio solitamente il contenuto della cartella download, ovvero robaccia che il più delle volte ci siamo semplicemente scordati di cancellare. Personalmente parlando, ma e attenzione, si tratta di una mia preferenza personale in quanto maniaco dell'ordine, quindi immagino già le risate che farà la mia ragazza, ma vabbè facciamo finta di niente. Organizzo i miei dati in cartelle meticolosamente separate, così da poter scegliere con totale libertà cosa sottoporre a backup e cosa no, a seconda delle mie esigenze. Per me questa logica funziona molto bene, ma è indubbiamente più scomoda che impostare un backup di tutte le cartelle principali del nostro computer, quindi, non so, desktop, documenti, immagini, video e simili, e specificare poi all'interno del programma di backup che abbiamo scelto quali escludere tra sottocartelle file specifici o estensioni. E tranquillo, non preoccuparti, perché si tratta di una cosa pienamente fattibile con pressoché ogni programma di backup, che richiede soltanto qualche impostazione in più del metodo che utilizzo io, sebbene, attenzione, assolutamente nulla di complesso, per cui davvero scelta libera, l'importante è che fai sto benedetto inventario. Osserva il labiale e ripeti con me, avere una sola copia di backup è come non avere alcun backup. Lo so, non sei d'accordo, ma sebbene sia certo mille volte meglio che non averne alcuna, la presenza di un singolo backup, magari anche sul classico hard disk esterno, non è affatto garanzia di sicurezza. Problemi come la corruzione dei dati, malfunzionamenti, furti o danneggiamenti vari sono davvero all'ordine del giorno, pertanto diviene fondamentale organizzarsi e corazzarsi al meglio possibile. Come? In vera una risposta definitiva non esiste, le opzioni sono davvero innumerevoli, ma oggi voglio parlarti di quella che personalmente ritengo una tra le migliori per semplicità e sicurezza, oltre ad essere con quasi assoluta certezza la più popolare in assoluto, ovvero il sistema 3-2-1, vale a dire tre copie di backup su due dispositivi diversi, una delle quali off-site. Grazie a questo sistema si vanno così a creare tre copie degli stessi dati, una, la prima, quella presente all'interno del tuo computer, e quindi diciamo, in un certo senso, la copia originale, una seconda all'interno, per esempio, non so, di un hard disk esterno, ed una terza all'interno di un altro hard disk esterno, piuttosto che un nastro magnetico, la quale però, attenzione, come detto, andrà posizionata off-site, e quindi lontano da casa tua, di modo da scongiurare che possibili terremoti, furti, incendi o altro, possano causare la perdita totale della tua intera vita digitale. E sebbene questa terza ed ultima copia da posizionarsi off-site possa essere eseguita, come ho detto, su un altro hard disk esterno o nastro magnetico, l'opzione più a cuna matata, e che quasi certamente ti sarà già venuta in mente, è senza dubbio il cloud, però con una dovuta attenzione, ovvero la cifratura dei dati. Questo perché, se all'interno di Google Drive, OneDrive, iCloud o quello che vi pare, andate a sbatterci i vostri dati in chiaro, così come li vedete all'interno di un computer, nella realtà è che chiunque potrebbe farci ciò che vuole, perché, people, allerta spoiler, la privacy non esiste. E dopo aver definito quali dati sottoporre a backup e secondo che logica, passiamo ora a parlare delle tipologie di backup. Ovviamente ne esistono diverse e alcune più complesse di altre, ma le principali sono tre, completo, incrementale e differenziale. Si parla di backup completo quando, come suggerisce il nome, si effettua ogni volta un backup integrale di tutti i dati, dal primo all'ultimo, ma si tratta oggi dell'opzione meno utilizzata, in quanto lenta, scomoda e direi quanto mai anche obsoleta. Certo, se si tratta di copiare solamente una manciata di file, va bene anche fare tutto secondo questa logica, ma se come nel mio caso hai a che fare con tanti, tanti, tanti gigabyte di roba, diventa praticamente un parto tregemino. Pensaci un attimo, se l'ultima volta hai eseguito un backup di tutto, perfetto al 100%, e da allora non hai messo a mano ad altro che un paio di documenti di Office, per quale ragione dovresti ricopiare tutto di nuovo da zero? Cioè, non sarebbe meglio limitare la cosa ai soli file effettivamente modificati? Ci siamo capiti, no? Ed è poi la ragione per cui esistono e per cui si tendono a preferire backup di tipo incrementale o differenziale, i quali, sebbene diversamente, permettono entrambi di limitare il backup ai soli file modificati dall'ultimo backup che è stato eseguito. E senza scendere troppo nel dettaglio, dato che sarà un argomento di un prossimo video, per cui, zero spoiler, per questioni di praticità, eccetto situazioni particolari, vi consiglierei sempre di optare per un backup di tipo differenziale. Ed eccoci arrivati al più classico dei problemi legati ai backup, ovvero lo spazio occupato, perché indipendentemente dalla tipologia che avrete scelto, completo, differenziale, incrementale o quello che vi pare, prima o poi andrete a riempire il supporto che li contiene, quindi hard disk esterno o nastro magnetico. Pertanto, come quarto step, vi viene necessario definire un cosiddetto schema di rotazione dei backup. Invece di doverci sbattere per cancellare noi altri, ah ma non ai backup divenuti oramai vecchi, è possibile impostare il programma che abbiamo scelto di utilizzare di modo che esegua automaticamente l'attività secondo predeterminate regole, così da poterci tranquillamente dimenticare del pericolo di poter finire lo spazio a disposizione. Come poi si imposti questa regola è tutt'altro discorso e dipende totalmente appunto dal programma con cui ci troviamo ad avere a che fare, ma a meno che non ne andiate a scegliere uno particolarmente complesso, per esempio, che so, da riga di comando, il quale vi sconsiglio se siete alle prime armi, solitamente quest'opzione ci viene automaticamente proposta durante la prima impostazione del nostro backup. Quinto ed ultimo step fondamentale come il cacio sui maccheroni, la ciucciata di vita dopo una buffata di fonzi, il controllo del backup. Anche qui ti sembrerà una stupidaggine, lo so bene, ma non puoi immaginare quante volte mi sono trovato, sia professionalmente che personalmente, ad avere a che fare con backup corrotti, arrestati o del tutto non funzionanti e pertanto inservibili. Per questo la prima cosa da fare dopo aver eseguito con successo un backup è accertarsi che la funzione di ripristino dei dati funzioni correttamente e soprattutto, altra piccoletta da non sottovalutare, sapere esattamente come recuperare i propri dati, perché se ci va tutto quanto in vacca e non abbiamo idea di come estrarre i nostri file da questo benedetto backup, potevamo anche non farlo. Io personalmente eseguo questo controllo periodicamente e consiglio anche a voi di fare lo stesso, perché se tutto è andato bene la prima volta non significhi che continuerà a andar bene anche in futuro e perdere quei 5-10 minuti di tanto in tanto per eseguire un test che alla peggio andrà a confermare il risultato della volta scorsa, beh, direi che si può fare. A onore del vero va poi detto che molti programmi di backup possiedono questa funzione di verifica e controllo già integrata in essi stessi, ma per quanto affidabile possa essere, nulla può eguagliare il caro vecchio metodo empirico e un test di ripristino eseguito di tanto in tanto vi darà quella sicurezza in più che un check sullo schermo non sarà mai in grado di fare. E ora che ti ho spiegato come creare e gestire un backup alla maniera delle big tech, veniamo a parlare dei programmi che potresti utilizzare per farlo. E per rispondere alla domanda che già ti è baluginata nella mente, no, non esiste uno che sia al 100% meglio di tutti gli altri. Il mercato trassuda alternative e molto dipende sia dalle tue necessità che dalle tue specifiche competenze tecniche in ambito informatico, ma ciò non mi impedisce comunque di farti alcune citazioni tra i più noti, diffusi e soprattutto gratuiti. Parlando di Windows, tra i migliori programmi con i quali cominciare direi assolutamente Paragon Backup & Recovery, Uranium Backup & Vim. Mentre per quanto riguarda la mela smuzzicata, escludendo a priori Time Machine in quanto soluzione integrata ed ottima, va detto, su macOS, direi Carbon Copy Cloner, Backblazer, Acronis True Image, l'immortale Yesus To Do Backup. E se invece sei tu un utente al quale, come a me, piace sporcarsi le mani, non posso non farti nomi come Macrium Reflect e CloneZilla su Windows, come anche Borg su Linux, sa parer mio il migliore in assoluto, anche se decisamente complesso da configurare in quanto esclusivamente da riga di comando e perciò direi anche quanto mai obbligatorio appoggiarlo a volta. E infine, ma non certo per importanza, ci tengo ad aprire una parentesi circa quel progetto di cloud geo distribuito totalmente made in Italy di cui vi parlavo all'inizio. Il suo nome è Cabbit e si tratta del primo fornitore di servizi cloud al mondo privo di data center, basato su di un'infrastruttura totalmente peer-to-peer. Cioè, capite cosa significa? Nessuna centralizzazione dei dati, la privacy è nelle nostre mani. Un progetto davvero incredibile al quale intendo dedicare un video nel breve tempo, un video esclusivo, e discutere con voi delle sue applicazioni e possibili evoluzioni future, perché davvero lo ritengo estremamente interessante. Ebbene, quindi, come disse Michele, figlio di Jack, this is it, questo è quanto. Il video di oggi si conclude qui. Io spero vivamente di avervi tenuto compagnia ed interessati, quantomeno abbastanza, da non farvi crollare addormentati sulla sedia. E se per il momento ancora non si intravedono pecorali nella vostra stanza, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Fate regolarmente il backup dei vostri dati, utilizzate qualcuno dei software che vi ho appena citato, oppure tutta altra roba. Conoscevate Jack Habit? Cosa ne pensate di questo progetto? Spollicciata più in un posto, condividete con Cagnaporci, e noi come sempre ci troviamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.